Ciao a tutti, sono Federico e ci troviamo qua a Rogno, provincia di Bergamo, per la tappa di campionato italiano da un skateboard. Oggi pomeriggio proveremo un po' l'asfalto, avremo un po' di free ride per tutti quanti, domani continueremo con le qualifiche cronometrate e domani che ne vedremo di belle, con le gare eliminazione diretta. Preparatevi! Grazie! 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 Madonna! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti